Ciao, io sono lo chef Tony Pera. Questo rivestimento in pietra di granito sviluppato in Svizzera vi offre molti vantaggi. Il più importante è che vi permette di cucinare senza grassi. Questo vi permette di cucinare sano e di lasciare i sapori intatti. Questo rivestimento antiaderente è altamente resistente e molto duraturo. Un'altra caratteristica molto importante è la trasmissione del calore in maniera uniforme, che permette una cottura perfetta e veloce. Facilissima da pulire. Fai uscire lo chef che hai in te. Grazie a tutti.